Cos'altro gli alberi come vedete è pieno eccolo qua guardate che belle guardate qua stupende stupende quest'anno l'albero è abbastanza carico di mele soprattutto la parte centrale la parte più protetta dalle intemperie se riusciamo a fare un'ottima potatura eliminando i rami che si incrociano all'interno e quelli che non danno frutto e facendo i tagli di ritorno e una congimazione autunnale otterremo sicuramente un grandissimo raccolto guardate che belle qua stupende le fuci guardate che belle qua belle proprio le fuci stupende guardate qua queste sono ancora le striature rosse ancora le fanno vedete questa c'è la striatura rossa e queste invece ancora verde quindi dobbiamo aspettare però l'albero il carico gruppi di due tre va bene se ce ne sono quattro cinque si attaccate uno o due si deve togliere per fare spazi terra d'abruzzo che spettacolo ragazzi guardate allora quando tu raccogli una mela su una pianta e le mele le trovi così mangiate questo ciò ti fa capire che l'albero non è trattato da agenti chimici eppure se viene trattato nei limiti consentiti dire che api insetti vespe roba varia vanno a nutrirsi perché vuol dire che il frutto è dolce è zuccherato che la mele è zuccherato e questo ti fa capire proprio la freschezza già ti fa capire la pianta e ti fa capire che non ci stanno medicinali infatti abbiamo raccolto una cassetta di mele ma naturali con il suo viraggio di colori quindi la fuci striate di rosso che si stanno maturando ma non le facciamo maturare come abbiamo detto precedentemente sulla pianta se non viene attaccata dei funghi perché l'albero non è trattato quindi è 100 per cento naturale di solito nel mese di maggio viene trattato con minimo per evitare la presenza di funghi dovuti dal clima come abbiamo detto precedentemente dovuto dal clima dalla troppa irrigazione della mancanza casumai di calcio che comunque l'albero l'inverno viene congimato comunque noi lo congimiamo ogni due anni e vedete la presenza vedi di qualche fungo colpito perché non ci sono o qualche mela mangiucchiata però questo ti fa capire proprio che qua non ci sono medicinali come faceva mio nonno come facevano i vostri nonni questa è freschezza e genuinità per quanto riguarda la malattia del frutteto sulle nostre mele fuji parliamo della butteratura e della fissiopatia cioè carenza di elementi nutritivi alla pianta del melo ovvero il marciume nero queste macchie nere che vedete intorno alla mela queste macchie nere colpisce varietà di mele tra cui la nostra fuji questo marciume è sempre più dannoso infesta colpisce frutti foglie e anche i rami e tutto ovviamente questo fungo sopravvive soprattutto sulle ferite che facciamo in autunno quando c'è la potatura dei rami e quindi quando facciamo questi tagli in inverno oppure quando ci sono presenze di cancro rameale sui tronchi ossia il tronco è lacerato mangiucchiato quasi sbucciato questi rami vanno eliminati ovviamente cancro rameale è causato soprattutto dalle zone umide e da molti sbalzi climatici infatti non tutti i climi sono adatti per le mele e quindi noi dobbiamo curarle in un certo modo è anche causato dalle forti gelate d'inverno le elevate temperature che comunque causano dei sbalzi climatici la presenza di molti funghi attaccano anche il tronco rameale soprattutto in primavera e quindi in inverno ci sono dei trattamenti che si fanno comunque sul frutteto e comunque alcuni consigli sono importanti la troppa congimazione non va bene quindi un'accessiva presenza di azoto troppa congimazione azotata non va bene perché fa sviluppare tante foglie e tanti rami e vedi un albero molto pieno di foglie molto carico di foglie quando è marzo aprile e non va bene e la pianta ovviamente richiede la presenza di più calcio capito quindi che non basta questo calcio perché si risperde tra le varie piante e che sono venute fuori invece la troppa presenza di potassio ha un effetto che ostacola l'assorbimento del calcio da parte delle piante quindi poi ci sono anche poca l'acqua o troppa siccità o sbalzi climatici in sostanza il problema è la presenza di squilibri del clima e la mancanza di queste sostanze nutritivi ovviamente un consiglio utile è in pieno inverno quando l'albero è spoglio e allora si fa si interviene sulla potatura quindi con e togliere i rami che si incrociano all'interno per il passaggio poi in futura primavera dell'aria tra le foglie i tagli di ritorno che si fanno sulla pianta e altre lavorazioni si fa una buona congimatura di calcio si mette quindi di calcio importante d'inverno e il giusto apporto di azoto quindi l'inverno è importante fare questi passaggi in più mettere un po di medicinale sul tronco e che spoglio in questo caso per proteggerlo dalle gelate dell'inverno lungo e quando si arriva a primavera che c'è la fioritura e tutto il resto nel mese di maggio intervenire con un medicinale proprio il giusto il giusto medicinale perché a maggio poi inizia la pianta a sviluppare tutto tutto il suo apparato e di conseguenza un minimo di medicinali possiamo mettere il mese di maggio dopodiché non mettere più nulla così che la pianta è protetta già dall'inverno fino a primavera fino a maggio quando ne mettiamo un minimo di medicinale con la pianta già bella verde e quasi in fioritura aspettando la fine dell'estate quindi settembre ottobre e in cui si ottiene il raccolto finale della mela per proteggere e avere un grande raccolto aspettando la fine dell'estate aspettando la fine dell'estate aspettando la fine dell'estate